Cenadi, incontro dibattito sul tema pandemia e ripartenza, il ruolo e le aspettative dei piccoli comuni, linea a Domenico Destito. Col coordinatore del Movimento Civico per Cenadi, questa sera a Cenadi si parla di questa pandemia e della ripartenza. Sì, abbiamo ritenuto importante puntualizzare un po' la situazione, approfittando anche delle aperture che sono state in merito alle restrizioni e alle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, per fare questo incontro dibattito con la popolazione e parlare di argomenti che consentono di essere pronti per affrontare il tema della ripartenza, che è assolutamente tanto atteso dalla popolazione, ma non solo, ma anche dalle attività, dagli imprenditori, da tutta la società civile. Per cui riteniamo che questo momento di confronto possa aiutare a capire bene soprattutto il discorso del piano nazionale di ripresa e di resilienza, che sarà una tappa importantissima in quest'opera di rilancio, e capire anche il ruolo che possa avere un piccolo centri come Cenadi, per cogliere al volo queste occasioni che saranno importantissime per il rilancio anche di comunità piccole come il nostro Paese. Dottor Gensolaro, quindi questa ripartenza può essere uno sviluppo anche per questi Paesi? Ma certamente, ci sono tante risorse previste dal piano nazionale di resistenza e l'Unione Europea ha addirittura imposto che buona parte di queste risorse siano destinate alla meridione d'Italia e al sud d'Italia. Arriveranno risorse anche nella nostra piccola comunità, bisognerà essere capaci di intercettarli con una capacità progettuale che siano finalizzate a una rinascita del territorio, creazione di infrastrutture e soprattutto nuovi ambiti di socialità che purtroppo nel nostro compensorio mancano. Oggi sono arrivati i primi 25 miliardi già famosi dei centri che devono arrivare? Speriamo, speriamo che ne arriveranno ancora, ma ripeto, la cosa importante è acquisire la capacità di intercettare queste risorse, perché le risorse non vengono date così a pioggia ma sono assegnate solo a progetti di valenza con ricadute sul territorio che possono creare sviluppo e nuove forme di vita societaria nella nostra comunità. Quindi la capacità progettuale in ambito politico e amministrativo è essenziale per poter raccogliere queste risorse queste risorse messe a disposizione dall'Unione Europea e noi questa sera vogliamo appunto portare un contributo per far capire alla cittadinanza come sia importante anche la scelta che si andrà a fare il 3-4 ottobre quando i cittadini di Cenadi saranno chiamati a decidere l'amministrazione che governerà il paese per i prossimi 5 anni. Si può ripartire, ci sono strumenti importanti, sono qui infatti anche per discutere del piano nazionale, di ripresa e resilienza che è uno strumento fondamentale messo a disposizione dall'Europa stiamo parlando di una potenza di fuoco pazzesca, sono 750 miliardi che l'Europa mette a disposizione degli Stati membri e l'Italia ne prende 191, diciamo che in termini di valore assoluto è il primo paese che prende maggior numero proprio di risorse europee, questi addirittura quasi 70 miliardi sono a fondo perduto, sono a fondo perduto e si abbraccia tutto, cioè tutti i settori, dalla pubblica amministrazione alla sanità, ai servizi sociali, alle imprese il settore economico viene abbracciato, la scuola, l'istruzione, diciamo che si può dire che è quasi un treno un ultimo treno che è la Calabria o anche comuni come Cenadi o piccoli, ecco ci sono strumenti anche di valorizzazione dei borghi, delle comunità più appunto nella montagna eccetera, che mai tendono ad essere isolati addirittura dove c'è uno spopolamento. C'è un'occasione enorme, si tratta semplicemente di rimboccarsi le maniche studiare le misure e vedere come in qualche maniera poterle usare nella comunità in cui si vive. Ogni cosa che succeda ovviamente deve produrre un insegnamento, la pandemia ci ha insegnato tanto credo che la prima cosa, quella più importante è il senso di comunità, abbiamo visto quanto ha inciso anche sulla qualità della vita dei comuni, delle famiglie, dei territori, il fatto di avere un territorio che è attivo solidale, collaborativo. Quindi qualsiasi idea di sviluppo deve partire da qui, cioè dal senso di identità, dalla voglia di essere partecipi e anche dal gusto di stare insieme per progettare anche il futuro. Credo che questo sia un elemento sociale che può rappresentare un bel punto di partenza per diciamo anche una comunità che si appresta a rinnovare il suo organo istituzionale più importante. Quindi io partirei da qui. Quanti possono andare a recuperare o guadagnare in termini sia economici e di sviluppo questi paesi nell'internet che hanno perso parecchie? Ma ogni programmazione deve partire dall'analisi del bisogno. Quindi la prima cosa da fare è fare anche un'analisi demografica e noi ci accorgiamo che ovviamente i comuni delle aree interne hanno una percentuale di popolazione anziana più elevata. La domanda è che idea di qualità della vita pensiamo per questi anziani? Allora in questo senso ci sono delle idee nuove, ad esempio io per conto dell'azienda sanitaria di Catanzaro dove lavoro ho condotto un progetto che ha dato dei risultati importanti non solo in termini di miglioramento della qualità della vita delle persone non sufficienti ma soprattutto come con il progetto attivo della comunità e anche, e mi sembra che nel nostro caso non sia un dato secondario, anche come capacità di creare nuova occupazione. Credo che sia un bel progetto politico anche questo.